L'attenzione degli organi di stampa nazionali su Paternò resta massima. Dopo le ultime vicende legate al possibile scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Paternò all'interno del blog del settimanale Panorama, è possibile vedere un servizio realizzato dal nostro direttore Meri Sottile con le immagini di Ludovico Lizio, che racconta la protesta sulla questione rifiuti del sindaco Pippo Failla, sceso in piazza in mutande. Una vicenda che risale alla scorso estate ma che ancora fa scalpore, rendendo il paese di La Russa, come si legge su Panorama, sempre più celebre anche se in negativo. Finire sulle cronache nazionali sta diventando un'abitudine per Paternò lo scorso inverno. È stata infatti la trasmissione di Santoro anno zero a puntare ai riflettori sulla cittadina paternese con un'inchiesta sui call center. Ora la vicenda è legata all'operazione antimafia Padrini, con la quale è finito dietro le sbarre l'allora assessore in carica Carmelo Frisena. La domanda che tutti si pongono, che ancora non ha una risposta, è una. Cosa c'è scritto nella relazione dei tre commissari arrivati a Paternò per indagare su eventuali infiltrazioni mafiose all'interno dell'amministrazione paternese? Nell'attesa della risposta, Panorama, primo organo di stampa nazionale a rilanciare la questione, non abbassa i riflettori ed oggi pubblica sul suo blog anche un nostro servizio andato in onda sulla nostra emittente sorella TVA e ripreso proprio da Panorama.